Allora, amici del Teatro Verdi di Pordenone Sì, anche del Giovanni Daudine Amici del Teatro Sì, anche di quello di Gorilla Anche Rossetti di Trieste Amici del Teatro Intotto Amici del Teatro Intotto Amici, anche parenti Amici, parenti, conoscenti, passanti Distratti e attenti Vi presentiamo un nuovo progetto Che parte qui, al Teatro Verdi di Pordenone Il 22 gennaio 2013 Come prima data Come seconda data Il 26 di febbraio, sempre di quest'anno Sempre di quest'anno Un gruppo neonato di attori, comici, professionisti Chissà del Triveneto Cosa si sono messi in testa? Si sono messi in testa di riunirsi Cosa rara, è unica al mondo Forse impossibile Dieci, magnifici dieci E si sono riuniti attorno a un progetto Un progetto Progetto dal titolo Un po' esilarante Due risate solo È poco Dirlo è poco Però noi non vogliamo insistere Grazie, grazie, grazie Ha fatto bene a farmi queste domande Ha capito? Perché l'elettore va riconquistato Mi è insieme un po' depresso Ha capito? Allora ho fatto qua Ho buttato su queste due murette qua Vi piace il teatrino? Qua prima c'era una rotonda Che non si creda Ah beh, basta Basta Perché io, prima che un sindaco Sono una donetta per bene Sono veneta Vengo da una famiglia benestante Ho studiato dalle suore E certe volgarità Non le accetto Bacca boia Bacca boia Non si può abbassare Quindi vi ricordiamo l'appuntamento L'appuntamento Per due risate Il 22 Beh, bravi Bello, molto bello Bravi Ma ci sono anche problemi seri Perché io A letto con lui Non sento niente Ok? Impossibile Impossibile Russo come un trattore Sì ma è uno Scusate Allora dicevamo Dicevamo che Sul 22 gennaio 2013 26 febbraio 2013 Io gli ho anche regalato Perché sembra che una non faccia niente Gli ho regalato il Kama Sutra Per prendere alcuni spunti Niente Niente Eh no Eh no Pagina 427 Posizione capretta sul dirupo Studiato Io non ho sentito Niente Per forza non cura vale Un attimo che Vabbè per cortesia Per cortesia Il messaggio vorrebbe essere serio Il teatro parlerà di crisi In qualsiasi forma Esa sia Anche quella matrimoniale Anche quella matrimoniale Non solo Quindi Il teatro E la comicità Si Vero Giusto Bravo Ha fatto bene Farmi questa notte La crisi La risposta qual è? Due risate Due Eccone qua Fine Grazie Eccolo qua Eccolo qua Lo conosce? Sì Lei vuole l'originale o il generico? Ah prendo il generico Prendo il generico Sai cos'è il generico? Il generico sarebbe Sarebbe un farmaco Equivalente all'originale Nel senso che Ha la stessa identica Funzione farmacologica Solo che costa meno Per motivi commerciali Avevo scelto bene Prendo il generico Con i tempi di crisi Grazie Applausi E per la diverticolite Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti